Al via il progetto di servizio civile Nuove Orizzonti Solidali del Comune di Taurianova. Nel corso di un incontro che si è tenuto presso il Municipio sono state infatti avviate ufficialmente le attività che vedranno impegnati per i prossimi 12 mesi otto volontari. All'incontro con i giovani volontari che vivranno un'importante esperienza formativa hanno preso parte il Sindaco Fabio Scionti, l'Assessore alle pari opportunità Raffaella Ferraro, il responsabile del Terzo Settore del Comune Andrea Canale, il dirigente scolastico Giuseppe Loprete. Il progetto a carattere assistenziale riguarda i disabili, adulti e minori portatori di handicap. L'intervento che verrà attuato tramite il lavoro dei volontari mira quindi a supportare le fasce più deboli della cittadinanza ponendosi come servizio di solidarietà a volta a soddisfare alcune esigenze dei soggetti disabili e dei ragazzi in età scolare. Il Comune di Taurianova attraverso un'indagine condotta dall'Assessorato alle pari opportunità ha acquisito un quadro dettagliato dei bisogni dei soggetti portatori di handicap residenti nel territorio comunale alla luce dei bisogni emersi dalla nostra indagine, afferma l'Assessore alle pari opportunità Ferraro. L'ente si impegnerà attraverso il progetto Nuovi Orizzonti Solidari a creare concreta sinergia tra soggetti istituzionali, organizzazioni e associazioni con lo scopo di realizzare un'azione sistematica di solidarietà sul territorio. Si tratta di un'occasione importante per l'ente, sottolineo invece Fabio Scionti, sindaco di Taurianova, che ci consentirà di implementare la nostra azione sul fronte dei servizi sociali e dare un aiuto concreto alle fasce più deboli e svantaggiate della cittadinanza che hanno oggi più che mai bisogno di interlocutori istituzionali e di sistemi di assistenza.